Signore delle 3B, ancora una volta benvenute per un consiglio pratico per risparmiare tra le mura domestiche. Magari voi direte, ma come fare quelle da là, essere sempre così sorridenti con la crisi che c'è? E perché abbiamo fatto il lifting che ci tira tutto e che sorridiamo anche se non vogliamo? No, no, perché noi sappiamo dove investire i nostri soldi. Sulla cura del corpo, sull'aspetto, i soldini che andiamo a risparmiare facendo noi con le nostre manine i piccoli e grandi lavori domestici. Per farvi un per esempio, se si sporca il tubo della cana, della stufa, cosa fate? Chiamate uno spazio cammino? Figurarsi, figurarsi. Che trovarne uno è come trovare uno spilo nella bambagia. Allora, per risparmiare le lezioni di oggi, come nettare il tubo della stufa, soprattutto sulle curve, che è il punto più critico? Occorrente. Occorrente. Allora, beh, prima di tutto, la 626, che va della vita, che va della vita, ragazzi. Per quanto sia breve, conviene sempre farla tutta. Ah beh, conviene tirare avanti intanto. Conviene tirare avanti. Dopo, tutti gli oggetti per nettare, le cartas, i giornali, quello che volete. L'umbrifico. Questo qua non va tanto bene, l'umbrifico. L'umbrifico. Non va tanto bene perché sulle curve fa fatica, però tenilo lì che non si sa mai. Non si sa mai. Il tubo della stufa. Il tubo della stufa. Tira foro il tubo della stufa. Te lo dovevi portare a te il tubo della stufa. Lo sapevo. Lo sapevo. Oggi, oggi, ho detto, vuolta vedere se è dimenticato del tubo della stufa. E adesso cosa facciamo? Ne temo, ne temo il... Ragazzi, come facciamo qua? Ragazzi? Ehi, regia, cosa dite? Andiamo a monte? Apprendiamo quella della stufa qua? Ah, lì la stufa qua. Ben poco. Una sorpresa. Cava via, cava via la curva. Solo che il tocco finale là. Ecco. Ecco. Pian, pian. Vara che sporco. Piano di non sporco. Vara che sporco. Guardate solo. Allora, allora, ragazzi. Ecco qua. Madre beata, si era impissata la stufa, la stufa era chiesa. Maria Vergine. Fatto sento che scottava il tubo qua. Scottalo, dammi qua, con i guanti. Ecco. Allora, come fare... Allora, prima di tutto si fa... Ma cosa, vale a gasolio? Qualcosa qua si va male. Allora, guardate bene. Si va male. Guardate bene, ragazze. Guarda che fumera che l'è qua. Allora, come fare a pulire un tubo della stufa? Allora, questo qua si va male. No, questo qua, ma si va male. Si va male. Sbagliato? Vedete? Sbagliato. Vedete che non si riesce a lavorare. Perché è rigido. È rigido. Ecco. Allora, guardate bene, è molto importante vedere bene. Ecco, allora... Perché se non si vede... Si fa una palla... Ecco, vedete? Guardate bene. Così è troppo grossa che non passa dentro. Fatela più piccola. Più piccola, si spinge dentro e dopo pian pianino... divitate. E.... Chicken jogo… Es Exchange E всiER dire quasi impossibile tirar leести affabili. L'agrazione. 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 Non faiwan. L'agrazione.